Malvezzi quotidiani, l'economia umanistica spiegata bene. Se tu decidi di colpire per esempio i redditi agevolati o concordati sulla casa e aumenti quella aliquota e vai a colpire i redditi dei piccoli, le piccole cose che funzionano, se tu alzi la pressione fiscale di fatto sui piccoli e sulle micro imprese, se tu togli sistemi agevolativi come flat tax a vantaggio dei più piccoli e dei microbi che stanno cercando di sopravvivere, mentre invece i grandi capitali queste cose ce le hanno assolutamente. Se tu vai a combattere il contante raccontandoci che quello serve a combattere la malavita e fingi di non vedere che in realtà la malavita sposta enormi capitali ma non certo con il contante ma con altre modalità perché siamo nel 2020 quasi, beh insomma se tu fai finta di non vedere che sono le grandi banche, i grandi potentati internazionali, se tu fai finta di non capire che sono tre grandi, quattro grandi al massimo fondi speculativi internazionali che vanno a prendere il 25% di tutto il PIL mondiale, se tu non capisci o fai finta di non capire che una banca centrale non può soltanto occuparsi dell'inflazione ma dovrebbe occuparsi invece anche della disoccupazione, della stabilità di un sistema economico, se tu continui a far credere che ci sia la sovranità dei trattati internazionali fottendote nell'articolo 11 della nostra Costituzione che stabilisce in modo chiaro l'accessione di sovranità nazionale e se quindi questo diventa un modo per calpestare l'articolo 1 della Costituzione che dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro ma che la sovranità appartiene al popolo al punto che ci sono interi giornali che prendono in giro le persone definendole sovranisti, ma certo è l'articolo 1 della mia Costituzione che dice che noi siamo sovranisti, lo hanno scritto i grandi costituenti che la sovranità appartiene al popolo, certo che se tu invece vuoi fare in modo che la sovranità appartenga al potere finanziario internazionale fai tutte quelle cose di cui ho parlato prima, crei disoccupazione per mantenere bassa l'inflazione, colpisci la piccola impresa e invece non tocchi la grande impresa, vai a mettere in manette i poverini che non riescono a versare le tasse e consenti poi invece agli assassini di uscire dai carceri coi premi e insomma diventi uno strabico che fa finta di non vedere che è importante tutelare il lavoro e non il grande capitale. Queste sono le mie critiche all'economia capitalistica. Buona economia umanistica! Grazie a tutti!